Mancano meno di 50 giorni all'apertura della stagione bianca e il comprensore sciistico a Remonia Pizzalto-Monte Pratello punta sempre più in alto in termini di tecnologie e innovazioni. Quest'anno vanterà il primato del sistema di nevamento programmato più grande d'Italia, capace di imbiancare 80 km di piste con l'utilizzo dei cannoni ad alto rendimento e a basso consumo energetico. Sono state collocate due nuove cabinovie di ultima generazione, senza barriere architettoniche e in grado di trasportare 10 persone. La prima cabinovia collegherà la stazione di Pizzalto a quella delle gravare, con una fermata intermedia nell'area del Macchione. La seconda, dalle gravare, condurrà gli sciatori fino alle toppe del Tesoro, ad oltre 2000 metri di altitudine. Si tratta di due impianti strategici che consentono di facilitare gli spostamenti tra le diverse aree del comprensorio per sfruttare al massimo tutte le potenzialità degli oltre 100 km di piste e per permettere ai principianti di poter avere delle nuove opportunità. Anche le piste sono state ristrutturate e rese ancora più sicure, con un maggior numero di materassi, reti di protezione e una segnaletica capillare. Tanti risconti e pacchetti famiglia offerti dal Consorzio Schipass Alto Sangro per la stagione scisica 2016-2017. I residenti in tutto l'Abruzzo, con un'attenzione rivolta agli under 14, avranno la riduzione sul costo dello Schipass stagionale fino all'80%. Totalmente gratuito invece per i bambini under 2005, accompagnati da un adulto che quest'inverno scenderanno in pista per almeno 4 giorni. Beh, ormai è l'Italia intera che ne sta parlando. Abbiamo finalmente due nuove gabinovie che consentiranno di dare a questo territorio qualcosa in più da un punto di vista di offerta scistica. Abbiamo inoltre anche un impianto di nevamento artificiale all'avanguardia, rivisto nei minimi dettagli, che consentirà di aprire questa stagione scistica con basse temperature e anche con carenza di neve naturale. Roccarazzo si presenta qui con un bellissimo bigliettino da visita a quest'inverno. Quanti soldi sono stati investiti? Circa 20 milioni di euro per queste gabinovie e altri 8 per l'innevamento artificiale. Dal punto di vista tecnico, quali sono le innovazioni? Dal punto di vista tecnico abbiamo una nuova tecnologia, abbiamo delle gabine a 10 posti che sono eccezionali, che consentono anche a persone diversamente abili di poter prendere gli impianti. sono convinto che verranno apprezzate non solo l'inverno, ma anche nell'offerta turistica estiva, perché possono essere abbinate al bicicletta e a varie iniziative che faremo sicuramente con il territorio anche per quest'estate. Quindi quest'inverno si prevede un afflusso maggiore di turismo? C'è un'attenzione enorme, c'è un'attesa incredibile da parte di tutti. Abbiamo visto sui social, abbiamo visto sui vari organi di comunicazione, abbiamo dei risconti enormi, veramente la gente non vede l'ora di venire a provare queste nuove gabine, non vede l'ora di venire a sciare, questo è un motivo importante perché viviamo di turismo, viviamo di queste cose e quindi ne beneficerà sicuramente tutto l'altro sangro. Contiamo di rispettare assolutamente la tabella di marcia che prevedeva la fine dei lavori, l'inizio delle operazioni con l'auto verso la fine del mese novembre, questo sia per le due nuove gabinovie, sia per i lavori di completamento dell'innevamento programmato e naturalmente le gabinovie entreranno in funzione aperte al pubblico non appena ci saranno le condizioni di innevamento necessarie e l'impianto di innevamento verrà collaudato per essere pronto assolutamente per i primi giorni del mese di dicembre. Le grandi novità di Coppo dell'Orso sono l'innevamento programmato, le nuove piste di Bob e il Big Bear che abbiamo messo già quest'estate. Coppo dell'Orso è per tutti, quindi per bambini, per adulti e anche per la fascia di età più grande. Tutti si possono divertire e ci divertiamo anche noi che siamo di mezza età, forse ci divertiamo più noi che i bambini. Che poi c'è anche il lato gastronomico. Il lato gastronomico che è buonissimo, si mangia benissimo, c'è un ottimo ristorante e c'è anche la tavola calda.